Cosa ci ha detto questo primo anticipo di questa prima giornata di Serie A? Secondo me qualcosina di buono c'è, qualcosa ancora secondo me dobbiamo un po' capirla, ma ora ne parliamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento e vi invito ad iscrivervi a questo canale se volete sempre più nuovi contenuti riguardanti il mondo del calcio e nuovi approfondimenti. Ragazzi come vedete vi sto pubblicando sempre più nuovi video lunghi qui sul canale quindi mi raccomando a supportarmi e oggi dopo quello che è stato l'anticipo di ieri voglio parlarvi un po' insomma di quello che è successo. Io partirei da quello che è successo con Frosino e Napoli finita 1 a 3 per i partenopei. Quindi ho visto un buon Napoli, devo dire la verità, un Napoli che comunque porta avanti quello che di buono è stato fatto durante la scorsa stagione, sono i campioni in carica l'ho già detto in uno short di ieri, nel post partita che ho fatto ieri, quindi se ve lo siete perso andatevelo a recuperare. Secondo me il Napoli è ancora la favorita per lo scudetto, è la squadra da battere seppure non lo è per i bookmakers, secondo me ha la rosa più forte del campionato e ieri in realtà lo dimostra con un Frosinone che non ho visto particolarmente arrendevole, anzi ha cercato di far male subito agli azzurri, ingenità di Cajust, spero si pronunci in questo modo, che provoca un rigore che secondo me ci sta perché il tocco c'è e il falo c'è da dietro, quindi giustissimo il rigore e Aruvi porta avanti appunto i gialloblu. Poi successivamente viene fuori quello che è il Napoli, secondo me la caratura, ripeto, della squadra è completamente differente dal Frosinone e ovviamente escono fuori le individualità che noi ci aspettiamo possano essere poi importanti per tutto il campionato, vedi Osimène, vedi Politano, insomma ho visto tanti tanti spunti, un Di Lorenzo assolutamente al top della forma, quindi ripeto il Napoli che non ha avuto particolari difficoltà se non la situazione iniziale dove si è trovata in svantaggio, ma poi la squadra di Rudy Garcia ha messo subito tutto sui binari giusti. Voglio soffermarmi su Osimène che ragazzi secondo me quest'anno durante la Coppa d'Africa potrebbe mancare tanto ai partenopei, subito due gol, subito bomber imprescindibile per questo Napoli, due gol alla sua maniera, uno potente sotto la traversa e l'altro in velocità piazzata, insomma devo esser sincero, secondo me sarà poi l'elemento che potrebbe far vacillare un po' la bilancia di questo Napoli, soprattutto nel periodo in cui mancherà per la Coppa d'Africa che sarà un periodo poi cruciale per tutte le squadre di Serie A che giocheranno la Champions, giocheranno il campionato, insomma secondo me mancherà tantissimo e subito lui ha fatto vedere che è un continuo ad essere, sarà un calciatore importante per questo Napoli. Poi parliamo di Inter-Monza, anche qui spunti positivi, ripeto vale la stessa cosa detta per il Napoli, siamo all'inizio, partiamo molto slow con le valutazioni, secondo me Frosinone è ancor meno lo è stato il Monza, ora ne parliamo, sono due squadre che in questo momento devono trovare il ritmo per la Serie A, così come tutte le altre, ma ieri non mi sono sembrate particolarmente irresistibili, tanto meno ha fatto il Monza a San Siro contro l'Inter. Secondo me al Monza manca necessariamente un attaccante, quindi insomma Gagliani deve fare una punta perché lì in avanti sono state poche 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 le occasioni per la squadra di Paladino. Per il resto una buona Inter, ho visto tanti spunti positivi, anche qui ne ho parlato ieri nel post partita che trovate nei miei shorts, ho visto un'ottima Inter, una buona Inter, ho visto un Turam che si è mosso bene, ho visto un Lautaro anche qui in ottima forma e sarà secondo me anche lui il lago della bilancia di questa Inter, soprattutto nel reparto offensivo perché manca un attaccante di peso e se Lautaro come sappiamo si prende un po' dei mesi di pausa potrebbe essere un problema per i Nero Azzurri. Per il resto devo dire la verità anche ho visto una buona difesa seppur non ha avuto tanti grattacapi, un ottimo centrocampo che secondo me è il reparto più completo dei Nero Azzurri e secondo me tra i più forti in Italia. Ragazzi qui subentra, esce dalla panchina, esce dal campo che ne so un barella ed entra un frattesi, Sensi ieri non è stato inserito, insomma a centrocampo c'è la Noglumi, chitaria hanno, cioè c'è tanta tanta buona carne a cuocere, quindi io penso che insomma quel reparto sarà poi, è il punto di forza e farà la differenza, soprattutto nei momenti un po' bui del reparto offensivo che secondo me ci saranno soprattutto se non si prende una punta di peso. A proposito di punta di peso, buona la prima per Arnautovic mi è piaciuto davvero tanto, è entrato bene nel secondo tempo, ottimi spunti, assist di tacco quindi abbina anche capacità tecniche, ha una buona presenza in campo, buono l'assist per Lautaro, tanta tanta roba buono anche Turam, si è mosso bene, anche lì voglio i gol perché deve necessariamente, un attaccante deve necessariamente segnare, si è mosso tanto, si è mosso tanto bene, anche nella precision, ma vogliamo i gol di Turam. Una menzione la faccio anche per la Fiorentina che ieri batte il Genoa in casa, insomma anche in maniera abbastanza larga, 1-4 per la Fiorentina, non mi aspettavo un Genoa così tanto disorganizzato, reparto difensivo che secondo me è totalmente da rivedere, centrocampo che non ha aiutato. Non l'ho vista ovviamente, ho visto l'Inter, sono andato a rivedere gli highlights e la difesa nei calci piazzati, nelle imbucate ha fatto acqua da tutte le parti. Secondo me Gilardino deve porre una pezza importante, deve cercare di andare un po' a riequilibrare quello che è il reparto difensivo e secondo me a disciplinare un po' meglio il centrocampo che non ha aiutato il terzetto difensivo. Per il resto un'ottima Fiorentina, voglio aspettare a giudicarla perché secondo me questo risultato è un pochino bugiardo, troppo troppo poco il Genoa per esaltare così tanto la Fiorentina, un risultato importante, però aspettiamo. Ieri ho visto un Jack Buonaventura, mamma mia, dei vecchi tempi, insomma ho visto tanti spunti importanti, un Nico Gonzalez bello in forma, un Biraghi che lì sulla fascia spingeva tanto, ma aspettiamo ancora un po' a valutare poi nel complesso questa Fiorentina che parte bene rispetto all'anno scorso, ma io voglio molto di più, la voglio vedere almeno tra le prime cinque perché secondo me è una squadra che merita e ha gli elementi necessari per arrivare nelle prime cinque posizioni. Ragazzi voi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video.